Rapinata in ospedale mentre era ricoverata nel reparto di cardiologia. Vittima una donna di 39 anni strattonata dal suo aggressore quando si era resa conto che non solo l'uomo era entrato nella sua stanza ma che dalla borsetta riposta nell'armadio aveva rubato il portafogli. Spinta a terra la donna aveva perso i sensi mentre il suo aggressore era scappato. L'episodio risale al 28 giugno scorso e non si è trattato di un caso isolato ma del quarto in pochi mesi alla clinica Sant'Anna di Brescia. Il responsabile dell'aggressione ora è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di una 37enne bergamasco di Corte Nuova. Due fattori determinanti. Il sistema di videosorveglianza che ci ha permesso di avere delle ottime immagini e la conoscenza dei soggetti di interesse operativo da parte dei carabinieri. Il rapinatore di fatto era conosciuto dai militari e questo unito al riconoscimento formale da parte della vittima e all'immagine del sistema di videosorveglianza ha dato gli elementi inconfutabili di reità affinché il magistrato potesse mettere l'ordinanza di custodia cautelare.